Lo stalking è una delle piaghe più pesanti nel nostro paese, 73 vittime a partire dal gennaio 2023, non colpisce soltanto le donne, quindi non è soltanto femminicidio, ma anche gli uomini, quindi è un vero e proprio omicidio. Ora, noi saremo con Antonio Russo, autore di Stalking, storie di un crimine ordinario, il 22 agosto a Lido York, in Viale Americo Vespucci a San Cataldo, in provincia di Lecce, una nostra marina, una marina salentina, siete tutti invitati, anche perché continuiamo con questa campagna di formazione e informazione con il nostro autore, i quaderni del bardo edizione. Nell'info box di questo video il link per l'acquisto del volume e nei commenti invece spiegheremo un po' cos'è lo stalking. Grazie a tutti, vi aspettiamo il 22 agosto a partire dalle 17.30 a Lido York, a San Cataldo di Lecce, in Viale Americo Vespucci.